ben ritrovati da tgplus.it alla tgplus cultura settimanale dedicato alle news sugli eventi a carattere culturale e non solo più interessanti attreviso nella marca dei prossimi giorni simone cristicchi e amara in concerto a castelfranco per battiato viaggio musicale alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità un rapimento mistico e sensuale tanto necessario in cui viviamo è torneremo ancora con certo mistico per battiato lo straordinario progetto di simone cristicchi e amara accolto a colpi di sold out da un grande consenso di pubblico organizzato da international music and arts arriva domenica 25 giugno a conegliano per il festival della musica nel paesaggio in piazzale del castello alle ore 21 e 05 biglietti disponibili su viva ticket e a proposito di musica è la musica di angela onlus quella che promuove per domani sabato 24 giugno al teatro comunale mario del monaco di treviso un concerto con finalità benefica angels for angela con la straordinaria partecipazione della corale angel city di los angeles california si tratta della prima tappa italiana assoluta del tour di angel city il nostro articolo dedicato su notizia plus lo potete leggere cliccando sul link in descrizione della news è partita ufficialmente l'altro ieri il giorno del sostizio d'estate il 21 giugno l'estate incantata 2023 assegna con oltre quest'anno 180 eventi fra musica teatro intrattenimento e cinema fino alla fine dell'estate segnatamente fino al 24 settembre riso ospiterà appuntamento per tutti i gusti e tutte le età promossi dall'amministrazione comunale con il sostegno della camera di commercio del consorzio di tutela prosecco doc e di centromarca barca che porterà i grandi comici sotto la loggia dei cavalieri la notte bianca invece torna torna per il momento quest'anno a roncade arte musica gastronomia libri artigianato giochi e molto altro vi aspettano dalle ore 19 in poi di domani sabato 24 giugno naturalmente per una notte tutta da vivere in questa news chiudiamo il nostro speciale tg plus cultura dedicato agli eventi io vi aspetto per il notiziario serale di treviso tg plus news noleggio e vendita attrezzatura da cantiere per qualunque esigenza di intervento noleggio e vendita attrezzatura da cantiere per qualunque esigenza di intervento